E' preoccupato il sindaco Franco Pagano ed ha motivo di esserlo perché quell'atterraggio in stile hollywoodiano nel bel mezzo del centro storico di Nicotera pone nell'occhio del ciclone il suo comune. Sul caso la procura di Vibo Valencia ha aperto un fascicolo e nelle ultime ore, oltre che sul tavolo del procuratore facente funzioni Michele Sirgio Vanni, la vicenda è finita la direzione distrettuale antimafia. Un atterraggio non autorizzato, così si difende il sindaco. Noi siamo vittime inconsapevoli di questo episodio deprecabile, da irresponsabile e delinquenziale. Noi non abbiamo, e lo ribadisco per l'ennesima volta, noi non abbiamo autorizzato nessun atterraggio di nessun velivolo dietro in Viale Castello. Come non è stata autorizzata nessuna interdizione al traffico veicolare di nessuna via di questo comune, di questo territorio. Eppure ciò si è verificato, quindi il traffico è stato interrotto, l'elicottero è atterrato in pieno centro storico e lei non ha saputo nulla. Ho saputo dell'evento nella sua gravità il giorno successivo, giovedì. Sindaco, lei è preoccupato? Guardi, preoccupato non tanto per me, sono preoccupato per l'impatto mediatico che questa vicenda ha avuto, per le ricadute negative d'immagine per la mia città. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24.